Una partita a calcetto e il pallone vola alto. Capita, ma non siamo in un campo bensì in corso mantone a Pescara. Le immagini della Movida raccolte grazie al collega Luca Pompei che ironizza sulla rampicata notturna fanno riflettere o quantomeno mettono il giudizio in stand by su eventuali nuove ordinanze del primo cittadino. Qualche altro video che in questo servizio non vi mostriamo frena fin anche il fiume delle opinioni in corsa su pro e contro i vari provvedimenti. Vedere qualcuno che si arrampica sulla casa di D'Annunzio di notte è una cosa veramente da incivili ma gli strumenti che ci sono non ci permettono tante volte di agire come noi vorremmo e come i cittadini vorrebbero. Difficile trovare la quadra per chi amministra musica entro la mezzanotte o dopo e al di là di qualche rilievo dell'arte effettuato su un punto specifico della Movida per valutare l'impatto dell'inquinamento acustico la verità è che ciò che abbiamo imparato a definire rumore antropico non è facilmente controllabile. Il problema è chi sta fuori dalle regole che deve essere riportato all'interno di un alveo di civiltà e questo stiamo facendo in mezzo purtroppo a esempi di inciviltà che danno molto molto fastidio. Si prevede una nuova ordinanza per il weekend di Pasqua? L'ordinanza che è stata in vigore per due settimane ha comportato che cosa? Che siccome sono stati rispettati i parametri previsti per legge per quanto riguarda le emissioni sorore, questo rumore è rientrato nella norma. Quello che non rientra nella norma è il rumore antropico delle tante persone che sono in mezzo alla strada e che spesso consumano alcol e quindi sono portate a esprimersi in maniera effervescente. E su questo dovremo continuare a riflettere per fare in modo che a Pescara ci sia una movida che sia rispettosa di tutti. Questo noi vogliamo. Il prossimo intervento previsto per il ponte di Pasqua farà tesoro dell'esperienza appena trascorsa con l'ordinanza che imponeva lo stop alla musica passata la mezzanotte.